Setai Colonial, sponsor ufficiale, trofeo degli Atenei, per tutti gli amici del campionato universitario, a pericena e due consumazioni, a soli 10 euro. E' iniziato in questo istante l'ultimo match di giorno, la girona di Degli Atenei tra Taxi Blues e Astemi. Ricordiamo Astemi matematicamente primi, Taxi Blues matematicamente fuori. La sfera esce a lato, rimessa dal fondo. Benefico il portiere di turno degli Astemi, respingi di pianta questa rimessa. Favore di Bossini che difende la pala, si gira al destro! Alto di pochissimo! Sono i Tordelli, scambia con Casella che è al limite, poi per il destro di Xbox, Anghileri. Fuori non di molto. Tordelli, la torre, supera un avversario, supera un secondo per parte di palla, attenzione, regalare la ripartenza, sono in quattro del taxi, pianta, mette a terra, la concluca, c'è il tiro! E' il gol del predone del deserto! 1-0, ma che errore qui da parte di Tordelli, un calciatore esperto come lui non dovrebbe perdere quelle palle, resta di fatto che non ci ha pensato due volte Caci a presentarsi davanti a Benefico e a scavocare il diagonale maligno. E' chiaro che all'inizio si pensava che appunto Astemi Taxi Blues fosse proprio il best, avrebbe deciso il sordine del girone, attenzione, in aria, si gira poi Anghileri e Borsellino con il piede. Il destro poi di Cisa, ancora Borsellino! Cerca il tirangolo con Bossini ma anticipa molto bene Tordelli che può ripartire palla al piede, allarga sulla destra per Harry Potter, Cisa, attenzione, le finte di Cisa rientra centralmente, carica a sinistro, raso terra e poi il gol di Bosco, tapin vincente a porta a volta dopo la rispinta corta di Borsellino. da Tordelli, riparte la formazione degli Astemi, Tordelli per Anghileri, le finte di Anghileri rientro su Caci, lo scambio tutto dall'altra parte per Casella, attenzione Casella, le finte di Casella che rientra sul sinistro! E' il gran gol di Super Mario! In favore degli Astemi, già battuto, Cisa controlla al destro e poi la deviazione! Fortunità di Caci ma gol tutto deciso nello specchio della porta, dai! Adesso deviato, 3-1 Astemi, le finte di Casella che guadagna mentre poi apre per Bosco, attenzione Bosco rientra su Osman, poi Bosco, il sinistro! Che trova l'incrocio dei pali, gran gol del 4-1 degli Astemi, Bosco! Io ho una domanda, io guarda, dopo quando gli fanno avvista gli chiedi questo, Astemi che tutti quanti dicevano che senza... Senza c'è il gol, il 4-2 di Daniele Pianta, un sinistro incrociare perfetto, palla nell'angolino dove Benefico nulla poteva. Smimmo, tenta la conclusione, a lato, nulla di fatto, sfuma anche quest'opportunità. Cisa per Tordelli, il numero 8, appoggia ancora per Harry Potter, una finta, il pollo sul destro, carica e Borsellino di piede! O tra l'altro... Il destro da fuori, intanto, che becca l'incrocio dei pali! Però sti qua, gli Astemi nella... Attenzione Bosco, 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 solo controllo su Borsellino! Il gol di Bosco! Con questa palla vagante, in aree erano un po' fermi i giocatori del Taxi Blues perché pensavano a una decisione in loro favore, un calcio di punizione per loro, infatti stanno discutendo con l'arbitro Martinez. Il controllo di Anghileri che fronteggia Procopio, sponda indietro per Bosco, ancora sinistro per Anghileri, palla dentro! E il gol di tacco di Super Mario! Che gol! E qui si è vista tutta la forza della formazione degli Astemi. Vediamo palla dentro, a cercare la sponda di testa di Bossini che riesce a controllare di testa! E poi di sinistro, di prepotenza, protegge il pallone e gonfia la rete! Il colpo di tacco di Osman sul tracciante rasoterra di Smimo è la serata dei colpi ad effetto. Tardelli, alla ragazza di testa per Baroldi, anzi Anghileri, Cisa, finisce in questo istante il match con Astemi 6, Taxi Blues 4 e Astemi a punteggio pieno nel girone D. Buonasera a tutti per gli Astemi, siamo qui con Bosco, Vittoria 6 a 4 nell'ultimo match col Taxi Blues, eravate già certi del primo posto. Penso proprio che insieme, io sono ancora meno esperto. Avete comunque onorato l'impegno, ottima partita da parte vostra, una prova in più tangibile contro una squadra, comunque come voi valute la vostra prova di oggi? Buona, comunque siamo venuti qua a mezzanotte per vedere che volevamo concludere con un uomo in questo fine di girone e adesso andiamo a vedere contro chi giocheremo le prossime partite sperando di puntare di nuovo alla finale che me ne ha messo qua. Sì, saranno tutte partite durissime, però avete dato finora prova di un ottimo gioco, un'ottima intesa anche di qua. Sì, 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 da risolvere che è andato via un giocatore molto importante, speriamo di sostituirvi al meglio e spero di continuare con voi. Va bene, ti ringrazio, allora in bocca al lupo, ci rivediamo sui campi. Per il Taxi Blues sono qui col portiere Borsellino e con Pianta, iniziamo da Pianta, questa sconfitta 6-4 in un girone già deciso, comunque è una buona prova da parte vostra a conto del semifensio? Io credo rendere star con voi. No, secondo me assolutamente no, secondo me non siamo assolutamente squadra, non c'è gruppo, ci credevamo troppo forti all'inizio, dall'inizio del primo giorno e vincendo quello, il girone degli Atenei ha dimostrato tutto il controllo. Le squadre, cioè gli Astemi, è sicura la squadra che ho visto migliore perché gioca a palla, è una squadra proprio, siccome possono arrivare sicuramente in finale. l'ha meritato e noi non siamo all'abitazione di sicuro di più. Potrete giocare però ancora una chance nella fase all'inizio di diretta della Comuniversità e con un portiere come Borsellino, insomma, non si può pensare di andare avanti ottimissimo. Alla fine abbiamo giocato male tutti quanti queste tre partite, quindi io non voglio salvare la regione del mio compagno perché ci siamo persi in queste tre partite, ora dobbiamo ritrovare lo spirito di gruppo, ci ha di prendere e dobbiamo puntare in alto in questa nuova partita, un po' più complicazione. Competizione. Competizione, vai tranquillo. Va bene, allora ringraziamo le Taxi Blues e ci rivediamo sui campi. Ciao. Setai Colonial, sponsor ufficiale, profeo degli Atenei. Per tutti gli amici del campionato universitario, aperi cena e due consumazioni a soli 10 euro. Grazie a tutti.